Nei disastri ambientali c'è molta colpa dell'uomo con abusi edilizi. Dal punto di vista urbanistico dico mai più condoni edilizi. Queste le parole dure del ministro dell'ambiente Gianluca Galletti dopo il sopralluogo a Rossano. L'Italia, ha aggiunto il ministro, è a grandissimo rischio perché per troppo tempo non è stata fatta manutenzione e adesso per causa del clima che è cambiato. È necessario dunque puntare sulla prevenzione. Concluso il sopralluogo tra le città di Corigliano Calabro e Rossano c'è stata la riunione operativa all'interno della sala dell'unità di crisi della protezione civile presieduta proprio dal ministro Gianluca Galletti. Al tavolo hanno partecipato anche il capo della protezione civile Fabrizio Curcio, i sindaci di Rossano e Corigliano Giuseppe Antoniotte, Giuseppe Geraci, il prefetto Gianfranco Tomao, il presidente della regione Mario Oliverio e i vertici territoriali di Carabinieri, Polizia di Stato e Guardia di Finanza.